Il primo di una serie di incontri oggi pomeriggio per dire no alla criminalità e soprattutto combatterla. Uniti così i gestori dei locali del centro storico catanese associati alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Turismo, FIPET-CIDEC, su richiesta dello stesso sindacato presieduto da Roberto Tudisco, hanno voluto incontrare a Diopizzo Catania nei loro locali di Via Grasso, Finocchiaro 112 a Catania, alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Pasquale Pacifico. Perché oggi il FIPET ha chiesto questo incontro ad Addio Pizzo? Perché in un momento di crisi generale ed anche locale abbiamo il sentore che la delinquenza si possa approfittare di questo momento e riuscire a imbadronirsi di qualche locale, che sia ristorante, che sia leggeria, pizzeria, discoteca. E quindi noi abbiamo invitato tutti i nostri associati a intervenire a questa prima riunione, che sarà un percorso, per sapere come difendersi e come non cadere in trappola. E anche c'è un altro problema, il pericolo dell'usura, perché sappiamo benissimo che le banche non stanno più alimentando il commercio e i commercianti e quindi tutti siamo a rischio usura. È facile cadere in questa trappola. È bene che noi ci mettiamo dalla parte della legalità, dalla parte dell'onestà e i commercianti sappiano che almeno c'è un'associazione che gli può venire incontro, che li può proteggere e gli può dire come devono comportarsi in uno di questi casi. Finalità dell'incontro è stata quella di presentare ai partecipanti il progetto del consumo critico, ma anche quella di illustrare tutti gli efficaci mezzi di tutela che lo Stato mette a disposizione dell'esercente che denuncia i propri estorsori o usurai e dimostrare con esempi concreti che oggi la denuncia è l'unica strada percorribile per riprendere in mano le redini della propria attività commerciale e rilanciare, seppur indirettamente, l'economia. Cos'è il progetto Consumo Critico? Sì, questo progetto l'abbiamo esportato, importato anzi da Palermo. è un progetto che prevede la creazione di una rete tra commercianti, pubblici esercenti, liberi professionisti che pubblicamente dichiarano di non pagare il pizzo e soprattutto si impegnano a denunciare eventuali richieste estorsive e dall'altra parte ci sono dei consumatori, che noi chiamiamo consumatori critici, consumatori etici, che si impegnano moralmente a preferirli nei loro consumi. E da sottolineare, anche se dovrebbe essere normalità, che sono stati gli esercenti a richiedere a voi questo incontro? Sì, questa volta sono stati gli esercenti, devo dire è una rarità, perché di solito sono argomenti tabù, in realtà non c'è alcun motivo di intendere questo argomento come tabù perché oggi la situazione a Catania è assolutamente gestibile, denunciare è possibile. Cosa direbbe un imprenditore che ancora ha delle perplessità a denunciare? Ma direi che denunciare il pizzo conviene, innanzitutto non soltanto per un problema di tranquillità individuale ma anche e soprattutto per un problema economico, perché come dicevo oggi con le misure che ci sono vi sono tutta una possibilità di una serie di incentivi mutui e agevolati, possibilità di sospensione delle procedure esecutive e così via, che consentono quindi all'imprenditore in difficoltà economica che denuncia il pizzo di poter ottenere il sostegno dello Stato. E secondo Pacifico ancora non c'è la mentalità per combattere del tutto questo fenomeno? Diciamo che non vorrei dire che siamo in alto mare ma poco ci manca, nel senso che comunque ancora sono poche le denunzie spontanee, per fatti di distorsione o di usura che registriamo. C'è sicuramente un cambiamento di mentalità in corso grazie anche alle associazioni come Adio Pizzo e tante altre associazioni che operano in questo settore, però siamo ancora ben lontani da questo cambio di mentalità. Grazie